Rita Faiola per la porta è mia perché io le devo spaccare la faccia Le devo spaccare la faccia Rita Faiola me la devo proprio sciogliere nell'acido praticamente Chiama Abdullah Blablar Senti Io non voglio dire niente però in certi casi se il marito picchia la moglie è per questioni di questo tipo qua Quando la moglie è un pezzo di merda secondo me Alcuni casi rari rarissimi sto esasperando la situazione Chiaramente è ovvio che le donne non se lo meritano Però Rita Faiola sì Cioè che all'ac lo chiameremo galac Top Ma guarda che comunque i mariti come il suo picchiano le moglie Quindi se lei non sta buona a quello la corca delle legnate Vedrai come diventa figa poi dopo Eh beh ma gliene deve dare tante Ma tante Magari gli faccio una telefonatina ad Abdullah E gli dico sai che la tua moglie quando va al mercato comunque fa la troietta con quello che vende le mele Occhio eh Un vero uomo Che se non fai quello che dice lui Quello ti prende ammazzate corna subito Quasi quasi una telefonatina però a galac io gliela farei Devo trovare fuori il numero poi lo chiamo Brava Lady appunto infatti Padellate in faccia Finché non migliora almeno un attimino Finché non migliora almeno un attimino